La Quaresima è un tempo di 40 giorni che ogni anno ci accompagna e ci prepara alla Pasqua, alla celebrazione della Passione Morte e Risurrezione di Gesù. È un tempo di conversione per allontanarci dal peccato e avvicinarci a Dio. È un tempo per riscoprire la bellezza dell'essere discepoli di Gesù, di seguire il nostro Maestro. È un tempo, come ci ricorda Papa Francesco nel messaggio per la Quaresima di quest'anno, per superare la tentazione di volere tutto e subito, la tentazione di voler accumulare sempre di più, in vista tutto ciò del recuperare delle relazioni sane nei confronti di noi stessi, nei confronti degli altri, nei confronti di Dio e nei confronti della creazione, che attende, come ancora ci ricorda Papa Francesco, la nostra manifestazione e testimonianza di figli di Dio, una creazione che ci è stata data in dono come un giardino da coltivare e custodire, che rischia a volte di trasformarsi in un deserto. La creazione attende la nostra manifestazione di figli di Dio. Buon cammino di Quaresima a tutti.